sul palo si stampa il 2-0 all'ottantesimo era è il momento dello spazio raga però è entrata bellissima applausi per tigre è il danese ha delle grandi potenzialità è il rosso scusa non ho fatto un fallo fino adesso attenzione un rosso immeritato grandissimo manca un po di esperienza si può dire goccia